Sì, realizzo questo video per far vedere la borsa a 360 gradi, la borsa è in pelle, ecopelle magone, così c'è anche la variante in nero. All'interno abbiamo due scompatti, come si vede, una da parte, questo qua è la parte anteriore, c'è anche la tracolla per poterla portare a spalla, e poi abbiamo anche un altro scomparto con cerniera. All'interno